Hai una debolezza immunitaria? Ti amali facilmente tu o tuo figlio? Uno dei sistemi più importanti per prevenire queste patologie, anche per curarle, dipende dalla dose che si usa, è ricorrere alla vitamina C. La vitamina C è veramente molto importante, stimola il sistema immunitario, è un antiossidante, depura l'organismo, è anti-anemica, anti-infiammatoria. Chiaramente dipende dalla dose, dipende da come viene usata e anche dal tipo di vitamina C.